Totec, ti sei perso tutto il divertimento! Xolot ha quasi raggiunto la fortezza. Non potremo sconfiggerlo una volta al sicuro tra quelle mura. Allora dovremo fermarlo prima che ci arrivi. Dirigiamoci al Tempio Occidentale, forse potremmo tagliargli la strada. Io lo inseguirò verso nord. Fa' attenzione! Xolot semina trappole ovunque!